Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Seconda giornata di semifinale alla terza tappa del Fide Grand Prix ed un'altra partita eccezionale da guardare insieme. Amin Tabatabey, il 21enne prodigio iraniano, ha perso la prima partita contro il fortissimo Wesley So, nella seconda, stavolta di bianco, deve giocare con un solo risultato nella mente. La vittoria. Partiamo! Amin Tabatabey di bianco apre la partita con D4, Wesley So risponde con cavallo in F6, C4 e C6, cavallo in C3 invita Wesley a giocare la nimso indiana ed il filippino americano non si fa pregare. Arriva infatti alfiere in B4, adesso sappiamo che le due continuazioni principali sono E3 o donna in C2, arriva cavallo in F3. Allora, arrocco corto per il nero, A3 che attacca subito l'alfiere, questa è la variante semifinale, attaccando subito l'alfiere il bianco lo invita a cambiarsi sul cavallo, anche facendosi impedonare i pedoni. È proprio quello che Wesley So farà, alfiere per cavallo in C3 con scacco, il pedone B ricattura, arriva C5. Ora, sappiamo che catturare, accettare questo pedone, catturare in C5 porta a tre pedoni doppiati, i cosiddetti buffi pedoni irlandesi, e quindi naturalmente il bianco non lo farà, anche perché se è il nero che cattura si migliora la struttura pedonale del bianco. Tabata Bay esce dalle linee principali giocando una mossa, secondo me, interessantissima, perché gioca a G3, eppure questo alfiere campo chiaro ci sta benissimo, in fianchetto e su questa diagonale principale, e quindi per contrastarlo subito, Wesley So gioca a B6. Alfiere in G2, e qui si minaccia a raggi X la torre, alfiere in B7, e alla mossa 9 arriva la novità del bianco. Arriva D5, attenzione perché la cattura non funziona tanto bene, dopo E per D5 arriva il cavallo in H4, e si ripiglia il pedone, si migliora oltretutto la struttura pedonale, quindi dopo D5, che può anche diventare un D6, allora Wesley So la gioca a lui, D6 blocca il pedone, blocca il pedone, controlla l'importantissima casa centrale E5. Allora, arrocco corto anche per il bianco, donna in E7, adesso con l'alfiere che è protetto, e si può tranquillamente allora qui catturare al centro, cavallo in H4 fa due cose buone, perché apre la terza difesa sul pedone, a questo punto catturare in D5 è cattiva per svariati motivi, quindi guardiamola velocemente, E per D5 non giocata da Wesley So è uno dei motivi per cui questa mossa non è per nulla buona, è che il pedone che non è più in E6 perde il controllo dell'importantissima casa offensiva F5, dove il bianco addirittura con tempo ci può piazzare il cavallo. Allora, dopo che il cavallo si è portato in H4, cosa fa Wesley So? Giustamente, continua con lo sviluppo, cavallo in B che va in D7, torre in E1, non soltanto protegge il pedone, ma qui lo aiuta a spingere in E4, arriva cavallo in E5. Il nero, secondo me, non soltanto ha completamente equalizzato, ma forse sta anche un po' meglio, minaccia addirittura di catturare il pedone in C4. Un pedone in C4 che si può difendere, è soltanto mandando la donna un po' fuori dai giochi, e cioè giocando donna in B3, intelligentemente Tabata Bay non difenderà il pedone. Andiamo però un po' a vedere cosa potrebbe succedere dopo donna in B3. Dopo donna in B3 che si protegge per adesso il pedone, non giocata dal bianco, ci sono due continuazioni interessanti per il nero, una un po' più semplice, oppure una più semplice come pensata, ma che porta ad una situazione più complessa, e una è il secondo attacco sul pedone, allora, che non si può più difendere, D per E6, attenzione qui c'è la torre sotto attacco, e allora bisogna catturare attaccando la donna con tempo, quindi, alfiere che cattura in C4, donna che si porta in C2, si può chiudere la strada e quindi salvare la torre, ma adesso E per F7 con scacco, la donna ricattura con posizione, con materiale pari, posizione estremamente complessa. Ritorniamo a questa donna in B3, perché invece la pensata più complessa, interessantissima, è il cambio immediato, E per D5, C per D5, e adesso il salto del cavallo in D3, un cavallo che non si può catturare, perché sennò si perde la torre, perché il pedone è inchiodato, e quando si sposta la torre, il nero, che stava già leggermente meglio, toglierà al bianco l'unica cosa buona che aveva in questa posizione, e cioè la coppia degli alfieri, con sicuro vantaggio del nero. Allora, dopo che il cavallo in E5 attacca il pedone, Tabata Bey, che cosa fa? Giustamente spinge in E4. Wesley So cattura il pedone in C4, alfieri in F1 attacca il cavallo, cavallo che torna in E5. Arriva anche C4, quindi guardate che morsa su questa casa in D5, il cavallo si porta indietro in G6, perché adesso Wesley So vorrebbe semplificare, e ora qui naturalmente farsi catturare e aprire l'arrocco sarebbe assurdo, quindi o è il bianco a catturare o si deve spostare, il bianco ha tutto l'interesse a mantenere la posizione complessa, Tabata Bey riporta il cavallo in G2. Ora, torre in E8 sicuramente buona, B5 giocata da Wesley So, anche se il pedone è in presa, in qualche modo sicuramente, o che sia lui a catturare, o che sia il bianco a vincergli il pedone, quindi a riprendersi un pedone, ma si indebolisce questa morsa sulla casa di C5. Sicuramente forse più tranquilla era andare a giocare torre in E8. Allora, C per B5, E per D5, E per D5, donna sotto attacco della torre, donna in D7. E ora qui il nero minaccia di rivincere un pedone, allora cavallo in E3 a proteggere il pedone, torre in F che va in E8, alfiere in B2, e attenzione questa non è soltanto una mossa di sviluppo, perché se il bianco potesse cambierebbe subito, con posizione vincente, questo alfiere sul cavallo, perché si apre l'arrocco, e poi pensate a queste spinte H4-H5 che tolgano anche il cavallo di fronte al re, e allora il cavallo si ripiglia il pedone, cavallo che cattura in D5, sembra che si perde a un pezzo, ma non è così, perché uno dei due difensori della casa di D5 e verrà deviata dal cambio delle torri, cavallo per cavallo, l'intermedia torre per torre, e la donna deve ricatturare per forza, l'alfiere ricattura in D5, quindi Wessie So si riprende il pezzo e ritorna con un pedone di vantaggio, e analizziamo un po' velocemente questa partita, che cosa succede? Succede che il nero ha due pedoni di vantaggio, scusate, il nero ha un pedone di vantaggio, ha due pedoni passati e connessi, che sono ancora però nella sua metà campo, il bianco sempre per parlare di pedoni, perché sono importantissimi in questa posizione, anche lui ha la possibilità con il 2 contro 1 sul lato di donna, di creare anche lui un pedone passato, naturalmente il nero sta un po' meglio, il bianco però compensa con la coppia degli alfieri, quindi anche se secondo me il nero rimane un po' preferibile, posizione ancora molto equilibrata, ma pensate, arriviamo al momento critico della partita, perché Tabata Bey alla mossa 23 con torre in D1, che cosa fa? Attacca l'alfiere? E probabilmente, no, senza probabilmente, attacca anche il pedone più debole dei due, ora, per capire cosa sta per succedere, intanto, cosa dovrebbe fare il nero? Il nero potrebbe semplicemente giocare alfiere in E6, e a fine in E6 dopo questa mossa c'è ancora tantissimo da giocare, la posizione, come dicevamo, rimane molto equilibrata, molto complicata, con possibilità da entrambe le parti, anche se io, da entrambe le parti, scusate, anche se io prenderei il nero. Ora, per capire cosa sta per succedere, bisogna entrare nella testa di Wesley So, che avendo già vinto la prima partita, forse cerca una semplificazione che gli consenta una semplice patta, ma non saprei dirlo, perché non è facile capire cosa abbia calcolato e quanto in profondità abbia visto Wesley So in questa posizione. Perché, che cosa succede? Succede che il nero lascia l'alfiere in presa, e Wesley So gioca cavallo in H4, che sembra un'idea micidiale. Non solo il cavallo non si può catturare, perché guardate che succede. Se G per H4, naturalmente non giocata da Tabata Belli, la donna ricattura ed è matto in due mosse, perché qui non si può spostare, alfiere in G2, donna cattura in G2, sorretta dall'alfiere, scacco matto, quindi non soltanto il cavallo non si può catturare, ma sorretto dall'alfiere, minaccia la prossima mossa, una forchetta micidiale, che vincerebbe la donna del bianco. E non ci si salva, quindi né a catturare il cavallo, né anche a giocare donna in C3. Infatti non l'ha giocata il bianco, perché la donna con questa mossa non solo si toglie dalla forchetta, minaccia anche matto in 1, ma cavallo in F3 rimane fortissima, il re costretto a spostarsi sotto lo scacco a raggi X, quindi lo scacco di scoperta, cavallo in D4, scacco di scoperta, chiude la minaccia del matto, re in G1, entra in gioco la donna. Donna in F5, minaccia un attacco da matto con donna in E4, attenzione che l'alfiere non si può spostare, se no di nuovo ritorna la micidiale forchetta, con lo scacco del cavallo che vince la donna, allora per evitare questa donna in E4 bisognerà giocare donna in E3, ma adesso donna in E5 e micidiale, attacca la torre sospesa e si minaccia il primo scacco e poi il matto in H2. Ora, quindi, cosa doveva giocare il bianco? Siamo arrivati al nostro quizzone e ritorniamo indietro alla posizione critica, cavallo in H4. Mettete pure in pausa se volete, perché c'è la mossa vincente per il bianco. Ritorniamo subito alla nostra partita, Tabata Bay gioca torre in D3, mantiene l'attacco su questo alfiere, ma naturalmente la torre deve proteggere dallo scacco del cavallo. Qui si minaccia veramente adesso di catturare, perché guardate che succede, se l'alfiere tornasse indietro in B7, non giocata naturalmente da Wessie So, allora il nero perde un pezzo, perché donna in G4 con scacco, non è più scacco matto in due, ma la torre si interpone e oltretutto darà una botta micidiale in G7. Ritorniamo a noi e quindi qui alla fine, dopo torre in D3, sono rimasti al nero due pezzi sotto attacco. Se ne può spostare solo uno. Non funziona neanche cavallo in F3 con scacco, perché c'è torre per cavallo, l'alfiere per la torre, donna in C3, minaccia matto e quindi in qualche modo per parare la minaccia di matto il bianco vince due pezzi per la torre e quindi vince la partita e allora Wessie So trova l'unico modo possibile per non perdere materiale ed è donna in G4. Donna in G4 non permette la cattura del cavallo, perché inchioda il pedone sul re, non si poteva già prima catturare l'alfiere, perché c'è lo scacco di cavallo in F3 che vince la donna e quindi Tabata Bay sposta la donna in C3. Sposta la donna in C3 e ora veramente si minaccia di catturare l'alfiere? Allora l'alfiere si porta in E4, attacca la torre, ma il bianco fa una minaccia ancora più grossa, attacca la donna, la donna non si può spostare dalla colonna G se no si perde il cavallo. Donna in G5, i pezzi sono salvi, perché il cavallo è salvo, ora bisogna salvare, anzi, scusate, il cavallo è salvo, l'alfiere si è già salvato, il problema qual è? Che non si è salvato il pedone, perché arriva torre che cattura in D6, quindi casca uno dei due pedoni che erano la forza del nero in questa posizione, i due pedoni passati e diventa naturalmente debolissimo anche il secondo. Attenzione perché adesso non solo, F4 che attacca la donna, la donna non può più rimanere e sulla colonna G si perde pure il cavallo, allora il cavallo si deve spostare. Allora Wesley So lo sposta in F5, attacca la torre, donna in E5, inchioda il cavallo sulla donna, donna in E7 minaccia la torre una seconda volta, ma qui arriva il cambio delle donne, donna per donna, il cavallo ricattura in E7, A4, e pensate, alla mossa 30, Wesley So a parità di materiale, abbandona. Incredibile? Eppure il giudizio dell'americano è corretto perché per il computer è quasi più 5, quasi come se il bianco avesse due pezzi di vantaggio, quasi due pezzi di vantaggio, giochiamo noi qualche mossa per capire come mai il nero in questo finale è senza speranza. Allora, torre in E8, mossa migliore, che oltretutto guarda a raggi X all'alfiere in E2, un alfiere che si sposterà in C4 inchiodando il pedone, alfiere in F5 lascia la colonna alla torre, arriva a 5. E questo il terribile problema del nero che mentre qui c'è un pedone sì passato ma bloccato e debolissimo, il 2 contro 1 sta per produrre un pedone passato avanzato sul lato di donna, H5, F3 per far arrivare il re, cavallo in G2, qui si minaccia di vincere un po' di materiale, ma nemmeno, qui si minaccia qualcosa, ma tanto il re avanzerà in F2, torre in C8 a proteggere il pedone arriva a B6 e qui per forza si crea il passato A per B6 A per B6 sta per arrivare B7 allora torre in B8 ma alfiere in A6 porterà il pedone in B7 tra le varie continuazioni senza speranza c'è alfiere in C8 quindi si arriverà al cambio degli alfieri alfiere per alfiere in C8 la torre ricattura il pedone arriva in B7 torre in B8 pedone sotto attacco torre in settima cavallo in F8 attacca la torre ma basta che la torre si sposta in C7 non si può attaccare di nuovo la torre perché arriverebbe lo scacco protetto e quindi si vince la partita all'istante allora G6 per far spostare il re alfiere in E5 è la mossa decisiva perché non c'è niente che possa fermare torre in E7 con un attaccante che attacca la casa di promozione quindi sicuramente il nero dovrà perdere la torre sul pedone quindi la contromossa di Tabata Bay mette in luce l'errore di valutazione di Waisisou e il giovane iraniano pareggia i conti entrambe le semifinali perché anche quella di Nakamura si decideranno oggi pomeriggio agli spareggi non dimenticate di like al video non dimenticate di iscrivervi al canale e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video a presto